Una vera tromba d'aria che ha causato ingenti danni. Mattinata di paura nella Brianza Lechese, questa è la palestra di Tabiago a Nibionno. Violente raffiche di vento hanno scoperchiato quasi completamente la struttura. Le lamiere sono cadute nel giardino e nei campi da gioco sottostanti, fortunatamente non ferendo nessuno. Diverse le case che hanno subito seri danni ai tetti, numerosi alberi abbattuti sulle strade, rimasta semi isolata la frazione di Mongodio. Delle persone sono rimaste intrappolate nel parcheggio del cimitero di Tabiago, trovando ricovero durante la bufera tra gli spazi delle cappelle cimiteriali aperte. Immediato l'intervento del personale della polizia locale di Nibionno alla ricerca di eventuali feriti e per la messa in sicurezza delle strade principali. Anche lungo la 36 la presenza di alberi abbattuti sulle corsie laterali ha provocato un forte rallentamento del traffico. Spaventoso anche quanto accaduto all'interno della chiesa parrocchiale di San Giorgio a Molteno. Le raffiche di vento hanno fatto cadere una vetrata che con tutto il suo peso si è abbattuta su una panca, spezzandola di netto. La chiesa, grazie al cielo, era vuota e anche in questo caso non ci sono state conseguenze. È stata una giornata di superlavoro per i vigili del fuoco attivi in tutta la provincia per numerosi interventi di taglio piante ed allagamenti.